Musica Occhio alla notizia, in studio, Marco Ferri Vediamo insieme i titoli del nostro sommario Con le marche di nuovo in zona arancione Tornano le restrizioni per bar e ristoranti Io sono deluso, rassegnato e ho finito le forze Salta la vaccinazione al personale scolastico Tutto rinviato a domani a causa di un guasto al sito delle poste Ecco le strategie per avere una scuola più sicura in tempo di pandemia A spiegarli a Fano TV è il presidente regionale dell'Associazione dei Presidi Aperitivi, assembramenti e multe A Pesero sanzionati tre locali Mentre a Fano uno in centro storico A Orciano la presenza di 200 giovani Tutti insieme costringono i carabinieri a chiudere il bocciodromo per cinque giorni La polizia di Fano ha arrestato un diciottenne ubriaco Che si è scagliato contro un agente Il poliziotto è finito all'ospedale Tra poco in diretta su Fano TV Primo cittadino con il sindaco di Pesero Matteo Ricci L'informazione locale sul canale 17 di Fano TV Ben ritrovati cari telespettatori Il ritorno delle marche in zona arancione Ha costretto bar e ristoranti a chiudere e a lavorare con l'asporto e il domicilio L'ennesima restrizione che però sta mettendo sull'astrico diversi imprenditori Angelica Panzieri Rassegnazione e arrabbiatura Quella di chi in questo ultimo anno ha dovuto subire limitazioni continue E che ora si vede costretto a pensare di dover chiudere il proprio locale Se le cose non cambieranno Le marche da oggi dopo un mese in area gialla tornano in zona arancione Una decisione è quella del governo che ha riportato a terra gli umori di baristi e ristoratori Stremati dall'alternarsi di aperture e chiusure Ormai da mesi Senza nessuna prospettiva per il futuro Bar e ristoranti da oggi per una settimana almeno Fino al prossimo verdetto che sarà emesso dal Ministero della Salute Come di consueto venerdì Possono rimanere aperti solo per l'asporto e per le consegne a domicilio Niente più pranzi fuori Né caffè al bancone o al tavolino E la rabbia monta Io sono incazzato nero Poi c'è una cosa che mi dà molto fastidio Noi siamo chiusi Dobbiamo stare attenti Non dobbiamo mettere più di quattro persone per tavolo Spesso e volentieri due per tavolo Quando invece in giro ci sono assembramenti In vari posti dove fanno la movida E purtroppo loro continuano a fare quello che gli pare Anche molti miei colleghi continuano a fare quello che gli pare E noi dobbiamo stare attenti Deluso Rassegnato E ho finito le forze Adesso io aspetto Dal primo di marzo Ripeto mi sono dato due mesi E voglio vedere cosa succede Se cambia qualcosa bene Se no Una cosa è certa Se esco Esco dalla porta principale Non esco dal retro Chi deve pagare paga Una brutta situazione Sottolineano i baristi Con un calo del lavoro impressionante Il lavoro è diminuito Per il semplice motivo Che la gente preferisce Bere un caffè a casa Al posto che berlo al freddo Fuori in mezzo alla strada Perciò è stato un calo del lavoro anomalo per noi Si lavora male Poi il cliente deve andare fuori E' brutto Brutta situazione Per noi già Giallo è meglio Se dobbiamo trovare un compromesso Lei è costretto a prendere la brioche E andare via E non può fare colazione seduto E non ne possiamo più direi No Però purtroppo Dobbiamo fare così Boh Non si sa Speriamo che serva a qualcosa E' la terza volta Da quando è stato introdotto Il sistema dei colori Che le marche finiscono in zona arancione Era successo per due settimane A metà novembre E poi a metà gennaio Con la differenza Che questa volta Il cambio di colore Scattato di lunedì E non di domenica Salvando così il fine settimana Per baristi e ristoratori Due delle categorie più colpite Dall'introduzione della zona arancione Che comporta anche il divieto di spostamento Al di fuori del proprio comune di residenza Se non per comprovate esigenze di lavoro O di salute E dunque Da una parte L'esigenza di chi Giustamente chiede Di poter lavorare Di poter avere delle certezze Anche per il futuro Dall'altra invece Il tragico numero Dei morti Che continua a salire Giorno dopo giorno Nelle Marche Sono 16 Le persone decedute A causa del coronavirus Tra le vittime C'è anche un 82enne Residente a Fossombrone Tra le nuove diagnosi Positive riscontrate In 24 ore Sono 446 La provincia più colpita Resta quella di Ancona Con 295 casi Negli ospedali della regione Ci sono 5 ricoveri Meno rispetto a ieri Per un totale di 649 I pazienti di terapia intensiva Sono 74 Mentre i degenti Semi intensiva Sono 160 E oggi Doveva partire La vaccinazione Per il personale Scolastico Ma a causa di un problema Al sito delle poste La profilassi È stata rinviata A domani mattina Intanto prosegue Invece quella Per gli over 80 Simona Zonghetti Anziani in fila Il codma di Roscianno Per la somministrazione Del siro anticovid Oggi doveva prendere Il via In contemporanea Anche la vaccinazione Per il personale scolastico Docente Non docente Fino ai 65 anni Ma come ci ha spiegato Il direttore Dell'area Vasta 1 Romeo Magnoni C'è stato un problema Nella piattaforma Di poste italiane Ha violento Anche nel resto Della regione A causa di una sovrapposizione Nelle prenotazioni Con gli anziani Che sul sito web Hanno occupato I posti dedicati Al personale scolastico A Fano Nonostante la consegna In mattinata Delle fiale Per i 70 professori Già prenotati È stato deciso Di rinviare Tutto a domani Si partirà a Pesaro Al centro sociale Monaldi Oggi quindi Nella sede Della protezione civile Proseguita La profilassi Per gli over 80 Com'è andata? Sta bene? Tutto bene Tutto bene È contenta Di essersi vaccinata? Sì 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 È un po' più tranquilla adesso? Adesso è più tranquilla Un pochino Tanto Qui Si fa Bisogna farlo no? Sì Ho fatto adesso Un pochi minuti fa Sono stati bravi Accoglienti? Molto Molto bravi E molto gentili Voi tutto bene? Sì Per Il vaccino Sto bene E cosa ne pensate Di queste vaccinazioni? Per fortuna sono partite Per fortuna Ma Speriamo che accelerino Speriamo veramente Che Vengano fatte più velocemente Anche per uscirne Il prima possibile Il prima possibile Sì Un parere suo Signora se possiamo Ecco lei cosa ne pensa Di queste vaccini Riusciremo ad uscirne Per l'estate? Io lo spero tanto Per tutti E soprattutto Per chi Ha il lavoro Cioè C'ha il lavoro estivo Che dovrebbero sollecitare A fare questi vaccini Da oggi siamo tornati In zona arancione Ha ancora un po' di restrizioni? Purtroppo è così Speriamo che tutti rispettino Queste regole Perché da quello che si vede In televisione Sono un po' delusa Questa volta Di dove è lei? Ergola E' venuto giù Accompagnato da qualcuno E' venuto giù solo? Da mio figlio Com'è andata? Si è trovato bene Con il personale sanitario? Molto bene Molto bene Tutto organizzato bene Mi è soddisfatto? Molto E' andata bene? Sì Sì E' contenta di aver fatto il vaccino? Sì Si deve fare Adesso siete un po' Tutti più tranquilli Anche in famiglia Immagino? Sì Sì Siamo più tranquilli Abbiamo vaccinato lei E il marito Che ha 92 anni Almeno siamo un po' Tutti più tranquilli Anche perché la preoccupazione Per i nostri anziani Insomma C'è sempre stata E continua purtroppo Ad esserci Sì sì L'allerta è continua Per ogni contatto Che hanno Devo dire che L'organizzazione del servizio È stata perfetta Anche mia madre Che non è autonoma Non abbiamo avuto nessun problema Quindi ringraziamo sicuramente La protezione civile L'area vasta E il comune di Fano Che hanno organizzato Questo servizio È favorevole Ai vaccini Ai tamponi Però è contrario Alla chiusura Delle scuole Lui è il preside Del Di un liceo Si chiama Riccardo Rossini E oggi A microfoni Fano TV Dà la sua ricetta Per contenere I contagi E dice Pesaro Poteva resistere A Pesaro Si sarebbe potuto Fare a meno Di chiudere Le scuole superiori Lo dice Riccardo Rossini Dirigente scolastico Del liceo scientifico Marconi Nonché presidente Regionale Dell'Associazione Nazionale Presidi Di fronte alle telecamere Di Fano TV Racconta Quali sono Secondo lui Le strategie Da mettere in campo Per avere una scuola Più sicura Probabilmente Pesaro Avrebbe potuto Fare a meno Perché abbiamo Bassissimi numeri Quindi eravamo Sicuramente in condizioni Di contenere Il rischio Le strategie Sono diverse Il 50% In ogni classe E non per istituto Ma se lo puoi fare Perché ci sono scuole Che non hanno Connessioni Che tengono La moltitudine Di dati Che devono Processare Se tutte le classi Contemporaneamente Sono collegate Il distanziamento sociale Però è fondamentale Fondamentale Aumentare da un metro A due metri Due metri e mezzo Quindi creare Una rarefazione Studentesca All'interno delle aule È fondamentale Noi come dicevo scientifico Ad esempio Non abbiamo avuto Dall'inizio dell'anno Né un caso Tra gli insegnanti Né tra i bidelli Né tra la persona Alleata Tutt'oggi Non abbiamo Classi in quarantena E abbiamo Solo tre casi Di positività Cioè Questa chiusura Generalizzata Mi sembra Che sia Oramai Non più Idonea A sostenere Il problema Le scuole Che sono in difficoltà Devono essere chiuse Quindi richiede Una versatilità Una velocità Di reazione Che non è quella Che abbiamo avuto In questi giorni Perché Asur I comuni La regione Si rimpallano Le competenze E alcune scuole Rimangono aperte Anche quando ci sono Ci sono numerosi Casi di Contagiati Se interveniamo Immediatamente In caso di Focolaio Noi possiamo Continuare Fino a giugno Andando Ad incidere Solo lì Dove è necessario E non in maniera Generalizzata Tutte le marche Benvengano i vaccini Sottolinea il preside Che da oggi Potranno essere Prenotati Anche dai docenti E dal personale Scolastico Anche se qualcuno È rimasto Ancora escluso Qualche problema C'è però Abbiamo iniziato A prenotarci I dirigenti Tutto il personale Scolastico E abbiamo visto Che Gli over 65 O meglio Tutti coloro Che hanno da 65 anni In su Non possono prenotarsi E ce ne sono diversi Questo è un problema Perché comunque Loro sono all'interno Della scuola Sono dei docenti Sono dei bidelli E fra l'altro Sono una categoria Addirittura più a rischio Essendo più grandi Di età E un'altra Problematica Che riguarda i vaccini Sono tutte quelle Categorie Di docenti A progetto Che hanno Appunto Una docenza All'interno delle scuole Magari che dura Due, tre, quattro mesi Ma comunque Sono a contatto Con gli studenti Sono a contatto Con gli altri docenti E in questo momento Non sono presenti Nelle liste Di quelli Che devono essere vaccinati E oggi È arrivata la comunicazione Che l'ordinanza regionale Sulla DAD Sulla didattica a distanza È stata impugnata Al TAR Delle Marche Nella notizia È stato proprio Il governatore Francesco Accoroli Che venerdì scorso Aveva firmato Il provvedimento A causa Dell'aumento dei contagi Una situazione paradossale La definita Il Presidente Credo che In un contesto Come questo Se qualcosa Deve essere evitato Sono proprio il caos E la confusione Se da un lato Infatti Non è possibile Avere certezza assoluta E dall'altro È sicuro Che ci stiamo Tutti impegnando Per scongiurare Scenari ancora peggiori Per la nostra regione Il mio auspicio Ha concluso Acquaroli Che il TAR Si esprima Quanto prima Al fine di fare Definitivamente chiarezza Rispetto all'atto impugnato Un atto adottato A tutela della salute E della sicurezza pubblica Che in questo momento Dovrebbe essere La priorità Per ciascuno di noi Dalle scuole E ai locali Perché i controlli Che sono stati voluti Dal prefetto di Pesero E Urbino Nell'ultimo fine settimana In zona gialla Hanno portato A sanzioni E chiusure Aperitivi Assembramenti E multe Il bel tempo Ha scatenato La voglia di uscire E nell'ultimo weekend In zona gialla Sia giovani Che adulti Si sono riversati In centro storico E sul lungomare I bar e i ristoranti Sono stati presi d'assalto E sono fioccate Decine di sanzioni Infatti La stretta voluta Dal prefetto Vittorio Lapolla Ha portato Ad un aumento Dei controlli A Pesero I vigili urbani Hanno sanzionato Tre locali Chiuso anche Un ristorante sushi Di via Ponchielli I carabinieri Invece Intorno alle 22 e 30 Hanno fatto irruzione In un garage In strada degli Olmi Dove era stata Segnalata la musica Ad alto volume All'interno C'erano 15 ragazzi Tra i 22 e i 24 anni Che avevano pensato Di far festa Senza mascherine Tutti multati E uno di loro È stato segnalato Alla prefettura Perché aveva in tasca Qualche grammo di hashish A Urciano Poi i militari Hanno chiuso Per 5 giorni Un bocciodromo Dove si era verificato Un assembramento Di quasi 200 giovani Stesso provvedimento Al bar extra boccio Di Pergola Ma qui sono stati Sanzionati anche Tre clienti Sempre nell'entroterra Ma Sant'Angelo invado I carabinieri di Urbino Hanno controllato Alcuni avventori Di un bar Intenti ad acquistare Bevande alcoliche Alle ore 20 I clienti sono stati Sanzionati Così come il titolare Per aver svolto L'attività Al di fuori Dell'orario consentito Anche lui dovrà Chiudere per 5 giorni Le violazioni Delle norme Anticontagio Non sono mancate Neanche accoglie al Metauro Dove le forze dell'ordine Hanno segnalato Una sala da ballo Il settimo cielo Sia al comune Che alla procura La porta del locale Infatti era chiusa a chiave Ma all'interno C'erano persone Anche se distanziate Il sindaco Andrea Giuliani Su richiesta Dei carabinieri Ha emesso Un'ordinanza Di sospensione Dell'attività Inoltre Il titolare È stato denunciato Per il mancato rispetto Delle norme Di sicurezza pubblica Verbali Elevati anche a Fano Dove è stato chiuso Il caffè delle scienze Oltre 200 le attività controllate Un'attività commerciale Purtroppo È stata chiusa In modo preventivo Per cinque giorni E poi Si resta in attesa Della decisione Della prefettura Su come eventualmente Procedere In che modo sanzionare Inoltre Tre persone Provenienti da fuori comune Prosegue l'assessore Sono state sanzionate Perché senza mascherina Sono state identificate Anche decine di cittadini In un'attività di controllo Congiunta Con il commissariato E l'arma dei carabinieri Che cosa risponde invece Al Nuova Fano Che denuncia Una carenza di organico Del comando della polizia locale Beh Non c'è bisogno Che sia Nuova Fano A denunciare Una carenza di organico Perché sono la prima A dire Che abbiamo necessità Di implementare L'organico Della polizia locale Abbiamo iniziato a farlo Con dei vincoli stringenti Motivo per cui Non è così semplice Andare a coprire Quelli che sono Veri e proprie mancanze Nel corpo della polizia locale Di Fano E la polizia fanese Ha arrestato Un diciottenne Ubriaco Che si è scagliato Contro un agente Il poliziotto Ferito È dovuto ricorrere Alle cure dei sanitari Nell'ospedale Ha sferrato calci e pugni Contro gli agenti Del commissariato di Fano Uno di loro È stato colpito Ed è finito All'ospedale Protagonista dell'episodio Un diciottenne fanese Già noto Alle forze dell'ordine Fermato sabato pomeriggio Alla Rocca Malatestiana I poliziotti Infatti Stavano eseguendo I controlli Nel centro storico Per prevenire Gli atti di vandalismo Dispaccio E le risse In particolare Da parte dei giovani E una volta giunti Al monumento cittadino Hanno notato Un gruppo di ragazzi Che si era radunato Alla vista degli agenti Alcuni di loro Si sono dispersi Ma in dieci Sono stati identificati E tra questi C'erano anche minorenni A terra Inoltre Sono state rinvenute Bottiglie vuote Molte gettate Anche sui binari ferroviari Sottostanti le mura Durante gli accertamenti Poi Il diciottenne Si è mostrato In evidente stato Di alterazione alcolica E si è scagliato Con violenze fisiche E verbali Contro le forze Dell'ordine Per questo I poliziotti Coordinati dal dirigente Stefano Seretti Lo hanno arrestato Per resistenza Minaccia E lesioni A pubblico ufficiale Inoltre è stato denunciato Per ubriachezza In luogo pubblico L'agente colpito Invece è dovuto ricorrere Alle cure dei sanitari Al pronto soccorso Del Santa Croce di Fano Ha riportato Diverse lesioni E se la caverà Con sei giorni Di prognosi Il giovane Posto agli arresti Domiciliari In attesa Della convalida Ieri si è allontanato Nuovamente Dall'abitazione Così la polizia Ha dovuto arrestarlo Di nuovo Per il reato Di evasione Il diciottenne È stato trattenuto In commissariato In attesa Del processo E oggi L'arresto È stato convalidato Il ragazzo È stato condannato A un anno E otto mesi Un anno Per resistenza E otto mesi Per evasione La pena però È stata sospesa Ed il diciottenne È già libero Infine Gli agenti Hanno svolto I controlli Anti-covid In collaborazione Con i carabinieri La guardia di finanza La capitaneria di porto E i vigili urbani In particolare Dopo una prima fase Di sensibilizzazione Dei titolari Gli operatori Sono passati Alle verifiche Nei locali Della città Oltre alla chiusura Del bar Di via Ugolino De Pili I poliziotti Hanno elevato 3.333 euro Di multa Ad un 22enne Del posto Perché sorpreso Urinare Sulla stessa via Nelle vicinanze Di un locale pubblico Al giovane Sono stati contestati Gli atti contrari Alla pubblica decenza E a partire da domani Nelle giornate Di martedì E giovedì Dalle ore 17.30 Alle 19.30 Il sabato Dalle 17.00 Alle 19.00 Il circuito ciclistico Marconi di Fano Zona sportiva Trave Zengarini Sarà di esclusivo Utilizzo Della società ciclistica Dilettantistica Alma Juventus Fano In questi giorni E orari L'ingresso Sarà autorizzato Ai soli tesserati Della società sportiva Potranno inoltre Accedere Alla circuito E quindi Ai loro impianti Solo gli associati Di baseball Atletica E gli arcieri Vega Abbiamo deciso Di dare continuità Ad una delibera Che era stata fatta Lo scorso anno Ha detto l'assessore Barbara Brunori Per permettere Ai ragazzi Di queste società E della ciclistica Di prepararsi al meglio Per sostenere le gare E per rispettare Al massimo Le norme Anti-covid E adesso Apriamo l'album Di famiglia di Fano TV Il grande album Della grande famiglia Di Fano TV Per fare gli auguri A Lina E Domenico Fabiano Di Tavernelle Siamo in provincia Di Pese d'Urbino Che ieri hanno festeggiato 50 anni Di matrimonio L'informazione locale Finisce qui Ma restate con noi Perché tra pochissimo In diretta Dopo le previsioni E la pubblicità Torna primo cittadino E ospite di questa sera Come vedete Matteo Ricci Sindaco di Pesaro L'informazione Sul canale 17 Di Fano TV Torna domani mattina Alle 7 In diretta Con la rassegna stampa Ok giornale Arrivederci